Allora, raccontami qual è il problema. Dottore, penso di avere sangue nelle vene. No, non dire bagianate, per favore. Per prima cosa lasciami ascoltare per bene. Forza, alza il bracito. Ok, è tutto normale, stai tranquillo. Adesso ti scrivo una cosa e tornerai come nuovo tra una settimana. Grazie a tutti.